Mi è stato chiesto se vengo eletto, cosa intendo fare per i poveri e bisognosi. Una beata minchia! Io non faccio prigionieri, tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti esistemo. Tu non mi voti, in tuo culo ti ha tutta la famiglia. Io sono stato a Rimini Addicione e ho scoperto cos'è che muove l'economia di una regione progredita come la Romagna. O pelo! Non costano niente, è tutto offerto da gettola qualunque. La politica che scende tra la gente!